Quindi la maledizione dei Vasconcellos è stata tolta? Oh no, la Contessa era contentissima di aver trovato il calice perduto, ma l'enigma del Cavaliere Disperso non è stato ancora risolto. Beh, per adesso puoi lasciarlo perdere e dedicarti alla scoperta del segreto dei Templari. Oh, veramente ho promesso alla Contessa che avrei trovato Don Carlos. Cosa hai fatto? Posso spiegare tutto. Ti sei invaghito di una vecchia e rugosa aristocratica spagnola. La Contessa mi ha affidato il calice e il compito di ritrovare la tomba del suo antenato. Sei passo come lei, come se non avessi abbastanza problemi. Can e i Templari? Fa tutto parte della stessa cosa. Questo calice è importante, ne sono sicuro. Il manoscritto ci ha indicato il Cavaliere e devo trovarlo. E adesso? Non lo so, ma quando il calice e il Cavaliere saranno riuniti, forse saprò cosa fare. Questo è un calice che ho trovato in Spagna. Non riesco ancora a capire perché la Contessa te l'abbia dato. Dopo averlo perso per tutti quegli anni, l'ho dato a un perfetto sconosciuto. È proprio una disperata. La Contessa è una signora raffinata. Non dovresti parlare così. Non mi sorprenderei se ci fosse qualcosa fra te e la Contessa. Stai scherzando? Potrebbe essere mia nonna. Tornerò il prima possibile. Va bene. Non mi sorprenderei. Salve di nuovo padre. Bonjour monsieur, che piacere incontrarla di nuovo. Cosa ne pensa di questo calice? Sicuramente sembra molto vecchio. Vecchio come la chiesa, credo. Sembra che ci siano delle incisioni su di esso. Veramente? Che cosa dicono? Non lo so. È molto sporco. Con il suo permesso potrei provare a pulirlo. Prometto che sarò molto prudente. Sarebbe molto gentile. Non dovrei metterci molto. Può dare un'occhiata in giro nel frattempo. Ok, grazie. Un cavaliere templare che bruciava sul roco e una data. Salve di nuovo padre. Ehi, grazie. Il piacere è tutto mio, monsieur. Cos'era quella scritta sul calice? Non era una scritta, mi ero sbagliato. Era uno stemma. La cosa più strana è che sembra molto familiare. Veramente? Sì, credo di averlo visto su quella tomba laggiù nell'angolo. Il cavallo alato è molto particolare. Ci vediamo. Oh, uam, monsieur. Ora che la mia attenzione vi si era soffermata, non c'erano più dubbi. Non c'era alcun nome su di essa, ma sullo stemma c'era sicuramente il Pegaso della famiglia Vasconcellos. Ho trovato il posto dove Don Carlos riposa in pace. I miei occhi furono attratti dalle referenze bibliche incise sulla sponda della tomba. Ehi, forse queste referenze bibliche hanno un significato. Salmi 32, 7. Giovanni 4, 11. Corinzi I, 4, 5. E un altro ancora. Salmi 22, 21. Non sarò perfetto, ma ho un'ottima memoria. Il calice mi aveva condotto a queste iscrizioni. Ma a me sembrava solamente una fortunata coincidenza. Dopotutto lo stemma dei Vasconcellos si trovava già sul manoscritto. No, ero ancora convinto che il calice avesse un significato particolare. No, ero ancora convinto che il calice avesse un'ottima memoria. Salve, Andrè. Salve, George. Quando ero in Siria, ho scoperto una strana statua pagana. Era come una testa con tre facce con la barba. Orribile. Potrebbe essere Baphomet, l'idolo descritto dai Templari. Poveri cavalieri di Cristo avevano un idolo del genere. Secondo quanto si dice, la descrizione dell'idolo è stata rinvenuta tra le prove dell'inquisizione. Ricorda, nessuna statua o idolo sono mai stati trovati tra i beni dei Templari. Finora, proprio il mese scorso, è stata dissotterrata una statua di Baphomet, proprio qui a Parigi. Dove? All'Institut Hermétique de Nerval. La statua è sotto alle fondamenta. È stata scoperta da alcuni muratori mentre stavano ristrutturando la costruzione. Non puoi dirmi nient'altro a proposito della statua di Baphomet? È un'immagine terrificante ancora adesso. Una testa con la barba. Alla base della statua sono incisi i simboli dei Templari. Uno dei muratori ha notato una macchia strana alla base. Diceva che sembrava... Sangue. Sangue? Sì! Grazie per il tuo aiuto, André. È stato un piacere. Il pittore sembrava considerare il dipinto di grande importanza, non così tanto come la sua pausa per fumarsi una sigaretta. Scusami, potresti aiutarmi? Cosa c'è? Ho alcune domande. Stai facendo un bel lavoro? Grazie, ho un certo orgoglio professionale. Penso di non avere mai visto nessuno fumare Gouloise con tale stile. È talento naturale. Volevo fare il sarcastico. Io l'indifferente. Sei molto bravo anche in quello. Grazie. Viva l'indifferenza! Allora? Che stai facendo qui? Sto facendo una pausa. Intendo quando finisci la pausa. Quando finisco la pausa? Un concetto interessante, monsieur. Probabilmente avrai bisogno di pensarci. Potrei fumare un'altra sigaretta mentre ci penso. Forse domani. Ok, lasciami spiegare in un altro modo. Per quale motivo sei stato assunto? Per mantenere gli scavi archeologici del seminterrato di questo edificio liberi da detriti. E ritoccare i danni alle intelaiature delle porte con il mio modesto barattolo di colore. È un lavoro di responsabilità. Sfortunatamente non sono una persona molto responsabile. Allora cosa sai a proposito degli scavi? So che non mi faranno entrare per fare il mio lavoro. Protesterei con il sindacato se... Se ti fossi preso la briga di scriverti. Giusto. Sai cosa allora? Sono sorpreso dal tipo di gente interessata agli scavi. Cosa c'è di strano riguardo i visitatori degli scavi? Nessuno di loro sembra un archeologo. Che aspetto ha un archeologo? Completo a tre pezzi, borsa di pelle di cocodrillo, Rolex, oyster... Ma nessun archeologo si veste in tale modo. Giusto, monsieur, giusto. Allora che sono? Non me ne importa. Basta che mi paghino. Cosa ti suggerisce la parola templare? Templare? Ah. Niente? Niente. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Una guardia stava davanti alla porta che credevo conducesse agli scavi. Aveva un'aria molto arrogante. Beh, non molto. Solo arrogante. C'era un termostato montato su un termosifone. Il termosifone stava emanando molto calore, poiché il termostato era stato impostato alla temperatura massima. Non era sorprendente che facesse così caldo, malgrado la porta aperta facesse entrare l'aria fredda dell'autunno. Salve, mi scusi? Ui. Allora, che sta facendo esattamente qui? Sto facendo la guardia. Si aspettava di trovarmi a tosare pecore? Si calmi, non mi ero reso conto che fosse una guardia. Mi piacerebbe sapere a cosa sta facendo la guardia. Quello è un segreto. Altrimenti non sarebbe un sito archeologico, vero? Me lo sta chiedendo o dicendo? Glielo sto dicendo. Allora perché chiedere? Avevo la sensazione che non si trattasse di un semplice buco nel terreno. Che cosa ne sa dei cavalieri templari? Ci fu un lungo momento di silenzio. Poi la guardia disse. Niente. Proprio niente? È un test? Cosa? Come un test sulla storia della musica pop? Non, come un test. Ok, sì, è un test. Allora non so assolutamente nulla a proposito dei templari. La guardia era estremamente evasiva. Ci voleva qualcosa di più che la semplice buona volontà per poter passare. Fa decisamente caldo qui. Devo lasciare la porta aperta per permettere l'accesso degli operai e allora perché no? Alzai il riscaldamento. Potrebbe coprirsi meglio. Ho i guanti nel caso dovessi fare freddo, ma perché preoccuparsi quando fa caldo? Ci vediamo. Au revoir, monsieur. C'era una porta chiusa con toilette inciso sulla vernice scrostata. La porta è chiusa a chiave, monsieur. Salve di nuovo. Che c'è? Cercando di entrare dentro al gabinetto, avevo un'incredibile sensazione di déjà vu. Vorrei usare il gabinetto, ma la porta è chiusa a chiave. Oh, questo non è un problema. Può avere la chiave. Grazie. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. C'era una grossa e vecchia caldaia usata per riscaldare l'edificio. Un'enorme pila di carbone giaceva nell'angolo per alimentare la caldaia, congegno di alta tecnologia. Non c'era bisogno di avvicinarsi per notare che il gabinetto aveva bisogno di una pulita. Trovandomi in un gabinetto pubblico come questo, mi venne nostalgia del bagno in Siria. Il posto era tenuto molto in ordine, o perlomeno lo era prima che lo devastassi, ma era stato per una giusta causa. Un lavandino sudicio era appoggiato al muro. Nel portachiavi c'era una vecchia e grossa chiave, che sembrava potesse andar bene per la porta degli scavi. Ho fatto un'impronta della chiave grossa sulla saponetta. Ho sparso attentamente il gesso nell'impronta della chiave che avevo fatto nella saponetta. C'era voluto un po', ma avevo costruito una chiave di gesso poco convincente. Troppo fragile per essere utilizzata in una serratura. Dovevo sostituirla con quella originale. Il problema era che sembrava di gesso e non di metallo. Anche quella statua di gesso in Siria non sembrava di pietra, fino a quando non ho usato l'ingegno. Forse potrei migliorare anche la chiave. Quasciè! Ecco le chiavi, grazie. Grazie, messie. Ehi, messie! Giù le mani dal mio barattolo di vernice! Ok! Incredibile! Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno! Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? Ci vediamo! Au revoir, monsieur! Le dispiace se uso il telefono? Faccia pure! Sono pagato per fare la guardia a questa porta. Il telefono può fare la guardia a se stesso. Colard? Pronto, Nico? Sono io! Sono all'istituto Hermetic de Nerval. Pronto, Georges! Cosa succede? Mi trovo agli scavi, ma non mi permettono di entrare. Dannazione! Dobbiamo scoprire cosa si trova là dentro! Non preoccuparti, ho un piano. Però mi serve il tuo aiuto. Ok? Cosa vuoi che faccia? Voglio che tu trattenga qualcuno al telefono per un po'. Chi? Un imbianchino. Devo impadronirmi del contenitore del colore. Oh, ok. Stai in linea. Lo vado a prendere. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? C'è una telefonata per te. Por moi? Sei sicuro? È una donna. Ha una voce sensuale. Una donna? Ci deve essere un errore, monsieur. Ha chiesto di quel pezzo d'uomo con le dita ricoperte di nicotina e il culo sporgente. Sembro proprio io. Dammi il telefono. Non si può far aspettare una signora. Vieni, monsieur. Che strana donna. Non riuscivo a staccarmela di dosso e poi improvvisamente nient'altro che abusi. Veramente? Oui, abusi. Vabbè, devo finire questa sigaretta. Eh, monsieur, se dovesse venire di nuovo non ci sono? Non ci sono. Spensi il riscaldamento e attesi. Salve di nuovo. Che c'è? Devo usare la... Toilette. Di nuovo. Di nuovo? Di già? Ho questo problema. Vuole che entri nei particolari tecnici? Non importa. Ecco la chiave. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Velocemente e senza far rumore, ho scambiato la chiave vera con quella falsa. Che c'è? Trattenne il respiro e sperai che non notasse la sostituzione. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Pronto, Nico, sono di nuovo io. L'avevo intuito. Cosa vuoi questa volta? Cosa hai detto all'imbianchino? Non lo ripeterò, Georges. Senti, ho bisogno che la guardia si allontani. Puoi ritelefonare e chiedere di chiamare di nuovo l'imbianchino? Ok, richiamo subito. Questo sembra un buon appostamento per osservare lo sviluppo degli eventi. Ehi tu, Squill ha il telefono? Sì? Chi è? Come faccio a saperlo? Non sono mica la tua segretaria. Non è una pollastra, vero? Sì, è una donna. Vai a rispondere? Ha una voce calda e sensuale, come scioccolato fuso? Sì, sì, ha una voce veramente sexy. Muoviti, ti aspetti. Non voglio parlare con lei. Ho capito, allora stai sprecando il tuo tempo blatterando con me. No, non capisci. Mi rifiuto di parlare con lei. Ti rifiuti? Ti rifiuti? Sto perdendo tempo prezioso. Non farmi ridere. Prezioso il tuo tempo? Sei sempre in giro tutto il giorno a Bigeloner. Ho un lavoro di alta responsabilità. Oh! Non fare lo spiritoso balordo mastodontico. Il mio è un lavoro importante. Impossibile. Altrimenti avrebbero assunto qualcuno competente. Cosa significa? Invece hanno assunto uno squallido poliziotto corrotto come te. Tutto muscoli e niente cervello. Perché tu? Sembrava che questo show sarebbe continuato per un po'. Era un'opportunità troppo bella per lasciarsela scappare. Al centro del pavimento c'era uno strano mosaico, con un distorto motivo a vortice. Ecco una faccia familiare. Ed era là, decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbarigati, Georges! Sbarigati, Georges! Sbarigati, Georges! Sbarigati, Georges! Sbarigati, Georges!